Cinque punti in tre gare, migliore avvio in Serie D non c'era mai stato per il termoli della presidenza Montaquila. Anche a Fossombrone la formazione giallorossa ha saputo tenere botta la leader forse empronese, costringendola al pari a reti bianche. Una gara di spessore quella degli Adriatici, come sottolinea anche in sala stampa Antonello Spagnuolo, tecnico in seconda dei Bassomolisani e sostituto dal trainer Massimo Carnevale, che dovrà restare fuori per altri tre turni causa squalifica. Alla fine è un pareggio importante perché su un campo davvero difficile, con una squadra ben organizzata, insomma credo che è una partita dove è stata aperta, dove entrambe le compagini abbiamo giocato a viso aperto, abbiamo cercato di vincere la fine alla fine, sia noi che loro, credo che è un ottimo punto per noi. Probabile unico rammarico, la precisione di qualche ultimo passaggio, ma nel complesso il lavoro fatto, sottolinea ancora Spagnuolo, è di quelli che meritano esclusivamente parole di encomio. Nel primo tempo abbiamo mosso bene Valla, riuscivamo a mandare da un settore all'altro nel modo giusto, poi come ha detto lei giustamente ci è mancato quel qualcosina finale, una volta il controllo sbagliato, qualche volta la scelta leggermente non giusta, però i ragazzi sono comportati bene, hanno fatto quello che comunque gli abbiamo chiesto e gli faccio i complimenti.